Cari amici, non so chi di voi ha visto Domenica Live domenica scorsa, ma desidero fare un commento riguardo una parte della puntata in cui c'era ospite Cristina D'Avera che è stata molto emozionante, dove abbiamo rivissuto gli anni straordinari della sua carriera grazie alle sue canzoni e abbiamo soprattutto rivisto anche quel Pasquale Finicelli che faceva amico su Kiss Me Licia, Love Me Licia, Tenera Mente Licia ed è stata un'emozione grandissima per tutti i fan che hanno vissuto quegli anni stupendi in cui i sceneggiati andavano in onda, veramente mi sono molto emozionato, qualcosa che è rimasto sicuramente nella memoria di tutti, chi è cresciuto in quegli anni sicuramente si ricorderà le varie ferite televisive che ha fatto Cristina ed è stata veramente un'emozione che ha toccato il cuore, credo che sia stata una delle migliori puntate di domenica live da quando esiste il programma, diciamo, perché di solito parlano sempre di drammi, invece quel momento lì è stato molto toccante ed è emozionante, di questo dobbiamo ringraziare non solo Cristina D'Avera ma anche la Barbara D'Urso che ha avuto l'idea geniale di invitare Cristina D'Avera in su e comunque così è stato veramente un momento di magia assoluta di televisione, diciamo. Con questo volevo salutare tutti i fan di Cristina, Cristina stessa e mandare un bacione a tutti quelli che come me hanno amato quelle canzoni che resteranno nel cuore di tutti insomma. Un abbraccio e al prossimo video.